Oggi l'atteso Consiglio dei Ministri che darà l'ok al provvedimento contro il caro Energia è sempre oggi l'incontro tra la Meloni e le imprese dopo quello di ieri con i sindacati ai quali ha ribadito la priorità e il lavoro. Ieri la Premier ha chiesto rispetto e collaborazione senza preconcetti e nell'interesse generale nel momento più difficile della storia della Repubblica. Per la CGL c'è stata disponibilità formale e non risposta mentre per la CISL occorre prorogare tutte le misure in scadenza contro il caro Bollette.